Ciao a tutti ragazzi, sono SilviaDX, in questo nuovo video sono qui a giocare a Minecraft Windows 10 edizione beta Così, e... Clicchiamo il tasto per aprire la barra di gioco Cazzo la musica! Che cazzo sono st'opzioni qui? Porca putta! Aspetta, aspetta, che cazzo è la versione, quella dell'android? Che cazzo è? Volume di... musica, no, musica SilviaDX100 per forza Bene ragazzi, questo mio nuovo video sono qui a provare Minecraft Windows 10 edizione Ultimate edition, no! Vabbè Ah, personalizza Che cazzo è? Ah, puoi caricare la skin, è bello, puoi caricare la skin Oddio, che cazzo è? Questo boscaiolo, mi piace, mi piace come skin Eh, gioca My world No, non l'ho provato io Facciamo un nuovo mondo No, non l'ho provato Allora, in questa versione di prova potrai giocare per 90 minuti Crea, costruisci, esplode, divertiti 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 Il tuo mondo non andrà perso se scegli di acquistare la versione completa Continua a giocare Che minchia è sta roba? Mio dio! Che cazzo è la sensibilità? Aspe Zioni Cazzo è la sensibilità? Aspe Ok Dimensione Test Tasto Direzionale Salto automatico Mancino Aspe Distanza Che cazzo è? Schermi intero No, non voglio fare schermi intero Nascondo interfaccia Che merda è sta roba? Mio dio La roba del lag rimarrà per sempre Questo gioco di merda Allora, vediamo che cosa si fa qua Baule Che cazzo è? Ma è la versione android quella? È la versione portatile No, che schifo Mio dio Mio dio che schifo di gioco cazzo Cosa è qua? Un pulcino qua Che minchia è? Senti, io vorrei mettere però le musiche Giusto per Ah, ok Calmi Bella sta musichetta Ah, sta musichetta me la ricordo Madonna, che bello Ah, va più veloce allora Allora, funziona il tasto per andare più veloce Una mucchina Oddio, che versi Che versi strani Mee, meh Questa musica mi fa piangere No, veramente Ma perché l'interfaccia è enorme? Perché gioca in 640x480 Quando io ho uno schermo Molto maggiore Molto maggiore Non so se si può dire Che cazzo ho fatto? Ah, si, si, si Il crafting No, no, ragazzi Non mi sono più ricordato Come si faceva il crafting Ok Ah, almeno il craft è rimasto normale Non quello della versione portatile Quella merda lì Sì, ma perché c'è un'interfaccia enorme? Non lo capisco Ma non verli ciecati Proprio quelli ciechi Che non vedono così Che cazzo musichetta Che ci accompagna Con queste dolci Dolci sinfonia Con queste dolci sinfonia Che ci accompagna Queste dolci nude Scaviamo Con la lana Con perlana Non c'è un cazzo da fare qui Che bello il mondo di Minecraft È un bel gioco Minecraft Non c'è un cazzo da fare Mio Dio E perché è tutta ghiaia? Scusa, il pietrisco Lo so mangiare qua Ma che cazzo è? Che cazzo di gioco è? Aspè, aspè Qua stava una caverna No, no, era là Madonna, ma come lag Quando regi Aspettate Chi minchia l'ha messa Sta torcia? Oddio, poi mi devo cominciare A caccare sotto Aspè, aspè, aspè Posizioniamo qua Ma scusa, io sei il primo F5 Ah, si vedi Cristiano Ah, i comandi Sono sempre gli stessi Però le nuove impostazioni Il nuovo menu non mi piace Cambiare la grafica In questo modo È esageratamente esagerato Usciamo da sto mondo Sì, ma non c'è un bel Ne meca minchia da fare Una beata minchia da fare Uh, un villaggio Aspetta che ci arriviamo Aspetta, aspetta Ci sono arrivato Eh, però questa musichetta È rimasta la stessa No, perché ho notato Che ci sono musiche No Chi è sto materiale? Che minchia è sto materiale? Cazzo è sto materiale? No, aspettate che lo raccolgo, eh Ah, è terra Che cazzo di terra è? Donna Oh mio Dio Compagno, compagno Aspetta, aspetta Cosa minchia si fa in sto gioco? Compagno, cosa si fa in sto gioco? Mangio mille Muori Non capisco come potesse piacermi un tempo un gioco così Come potete vedere Potete vedere Esistono tantissime modpack di Minecraft Mod di Minecraft Che permettono il gioco Di farlo diventare Sto parlando una lingua strana Sto sbagliando verbi Il gioco di Minecraft potrebbe essere migliore Se usasse determinate mod E così via Quando invece qui possiamo Sicuramente trovare il nulla Che minchia sta da fare? Che cosa si fa? Cos' si fa? L'acqua, madonna mia Sempre la versione portatile Dei giochi Non era così l'acqua Era così bella prima Con la grafica Ah, no Ah, ecco Carbone Pighiamo carbone Ah, che caccia è questo materiale? Ah, ecco Il fatto che non possa mettere nemmeno le mod Aspetta Oddio Oddio Che cosa è qua? Oddio Che bagone Aspettate Tipo se io E' ancora in fase beta Il gioco Dai Perdoniamoli Perdoniamoli Ancora in fase beta Belli Allora Noi dobbiamo fare il ferro Perché dobbiamo fare il ferro? E' mo' scoprite perché Oddio Oddio Cos'era? Mi mancava sto suono Oddio No No Lo devo rifare Io giocherò a Minecraft Solo per questo suono Perché fai pirti? Guarda Comincia Che cazzo fa? Scorreggio Merda Oh Cioè io giocherò a Minecraft Solo per questo Veramente Io ci giocavo a Minecraft beta Alfa Giusto per questo rumore qua Oh Aspettate No 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 La cosa più bella La cosa più bella Vabbè Vabbè Prende che diventa notte Facciamolo 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 Menu Menù Ben ragazzi Per questo video è tutto Grazie per avermi seguito questo video E spero che il video vi sia piaciuto E' ottimo il fatto che puoi caricare una skin personalizzata Lo ammetto E' una cosa però che naturalmente va comprato Minecraft per giocare per bene E' il pagamento di 9,99€ sullo store Non me lo ricordo Se il gioco verrà sviluppato per bene Verrà fatto l'interfaccia come Cristo comanda E verrà reso un menu opzioni Verranno aggiunte determinate cose Un pensierino per comprarlo ce lo farei Bene ragazzi Per questo video è tutto E Da me questa strana creatura è tutto E Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 ciao